Sì unanime della terza commissione alla delibera dell'aggiunta che prevede la revoca del finanziamento di 1,3 milioni di euro al Comune di Venosa nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano. Le risorse verranno riaffidate comunque al Comune di Venosa per interventi di riqualificazione del patrimonio e delle aree degradate. Il tutto per il Presidente Romaniello sulla base di un'intesa da realizzarsi tra il Dipartimento Infrastrutture e l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle decisioni che saranno assunte in Consiglio. All'attenzione della commissione anche il disegno di legge che detta modifiche in tema di misure finalizzate alla promozione dei contratti di rete e dei contratti di sviluppo, nella direzione di consentire anche alle piccole imprese di potersi candidare per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo a Valenza regionale. All'attenzione della commissione